Allora sono andato a giro per viareggio perché si giro per viareggio merde e ciò vuol dire solo una cosa Spesa, spesa, perché ho speso 100 euro in film che non ci credono, che non ci credono, vediamo, verifichiamo Spesa che, ok, 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 ah, 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 zanzara Perché sono ricco, sono ricco, sono avvottutamente ricco, capito? No raga, scherzi a parte, umiltà, troviamo un minimo serie, minimo, vi mostrerò cosa c'è qui dentro Perché so che siete curiosi se avete aperto questo video, o siete ai doti o siete curiosi Per cui guardiamo subito, se non avete visto i video precedenti dove faccio questo tipo di cose potete comunque riandarle a vedere E non intratteniamoci oltre i discorsi, vi faccio vedere il contenuto di questo sacchetto dove ci sarà principalmente horror E andiamo subito con, oh shit, The Song of Solomon The Song of Solomon è un film della serie del Guinea Pig americano I Guinea Pig purtroppo non sono più reperibili Però intanto c'è questa mega serie che dicono sia splatter, un po' come i buoni vecchi film di Guinea Pig Ed abbiano tutti appunto delle trame e storie diverse In questo caso un po' il classicone degli esorcismi Che vanno avanti ormai da tempi immemorabili negli horror Eppure la ragazza posseduta che possiede una cosa come quattro pupille Insomma degli effettini ganzi Vediamo che ci riserverà questo film Poi qua dalla busta estraiamo anche Hey Tokyo Gore fucking police bitch Perché di questi tempi sono proprio in cerca di splatter Passione che è ritornata viva grazie anche al registone Registone, registone Di questo film Perché io mi ero visto Hell Driver E da lì mi è presa la voglia di vedere i film di questo registra Che wow Ve lo rivedo perché magari non vi siete visti gli episodi precedenti Comunque Tokyo Horror Police Ve lo recensirò e vedrò un po' Cosa mi ha lasciato questo film Poi abbiamo un Biohazard Passions Passions penso Zero Ok Oggi sono poco english Cazzo Comunque film dei zombie E mi ha incuriosito perché Biohazard Se non mi sbaglio dovrebbe essere legata a La saga di Resident Evil Come titolo Anche se non avrà assolutamente nulla a che fare Però Giorgia Romero Se non mi sbaglio da qualcosa che Lessi tempo fa Per cui Non sono del tutto sicuro di quello che dico Però dovrebbe essere Tipo Giorgia Romero Che voleva continuare la saga di Resident Evil E Chiamandola Biohazard Poi il Passions Zero Anche questo mi ricorda un qualcosa tipo Il videogame Sempre legato un po' alla saga di Resident Evil Però Magari ve ne parlerò meglio Quando andrò a recensire questo film Che appunto Mi ero fatto delle ricerche però Tempo fa La cosa però che mi ha colpito Guardando Questa copertina È che Oh What's up What's up Vediamo se trovate l'intruso Anche voi Quaggiù Se siete un po' esperti Dei film di Romero What the fuck Qua si vede pure male Da fotocamera Però questo Questo è un'immagine che io Penso sia stata rubata Da Day of the Dead Di Giorgia Romero Cioè Regà È questa È questa l'immagine È proprio lo zombie del film In una scena del film Famosissima Oltretutto Per cui Sono molto confuso Con questo film Regà E non so veramente Cosa mi aspetterà Però Spiriamo La scena deludente E andiamo avanti Con i film Con i film Abbiamo Mizz De Flibles No Fli Sì Flibles Anche qui Pronuncia Però Filma Strambo Ok Che sono Tipo Dei mappets Dei mappets Per dirvi Insomma Le Le marionette I pupazzetti Ehm Fatti Insomma Mossi Con Con una mano O con Degli attori All'interno Di questi Grandi peluche Il fatto È che si parla Comunque Di un film Horror Se non horror Anche qui Una roba Splatter A livello di informazioni E curiosità Ci sarebbe tanto Da spiegare Anche di quello Però non voglio Dilungarmi troppo E ve ne parlerò Magari Nella recensione Di questo film Che Già Già Da Da quel poco Che vi ho detto Dovrebbe suonarvi Come un qualcosa Di Parecchio Strambo E qui Abbiamo Io deduco Già Appunto Ah questi Questi Li scarto Li scarto Insieme Perché Meritano Meritano Ok Chiudiamo Il video Con Proprio Questi Tre film Tre film Perché Mi ero Comprato I primi Tre film Della saga Di Puppet Master Che erano Che erano Reperibili In audio Italiano Appunto Di Film Che Arrivano Direttamente Dall'Italia Questi invece Mi sono arrivati Dall'estero E sono Gli altri Tre film Dopo Puppet Master 3 Insomma Per capirsi Non che siano Tutti i film Della saga Però Ne ho ordinati Altri tre In blu ray Mi sono costati Di più Proprio perché Sono in blu ray Però Speriamone sia Valsa la pena Perché Comunque È una saga Che Mi ha lasciato Un pochino a deludire Col secondo Come vi ho accennato Ma Si è ripresa bene Con il terzo Capitolo Della saga E qua Infatti Abbiamo Puppet Master 4 Ecco L'ho zecchata Edizione Blu e ray Da notare bene A 19 euro E 99 20 euro Quindi Stigazzi Stigazzi Vada a essere anche brutta Puppet Master 5 Stesso pezzo Ovviamente Blu e ray Anche questo Che No Curse Of The Puppet Master Il sesso Capito Della saga E vediamo Quindi che ci aspetta Da tutto ciò La bussa è finita Ho totalizzato I miei 8 minuti Vi ho intrattenuto Anche troppo Per cui Magari uscitevi fuori E uscitevi Uscite fuori E fatevi una vita sociale Anziché guardare Le stronzate Che posto Oppure Guardate anche qualche film Di questi Se vi è incuriosito Se Alle volte tendete a dire Fanculo La vita sociale Come me E niente Alla prossima Direi Dai Dai ragazzi Non ci inceschiamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima